Cari amici sostenitori, sostentatori, sostenitrici, sostentatrici, una buona giornata a tutti. Questi sono 18 colori da 1.75 di quella plastica che si usa sia nelle stampanti 3D che nelle penne 3D. Mi sembra venga, se non sbaglio, un 13-14 euro. Non sono molto lunghi perché sono tutti spezzoncini. Il rotolo da 1 kg mi sembra venga, se non sbaglio, 300 metri, se non dico una cazzata, 22-25, dipende poi che cosa. Poi c'è quello mezzo metallico, eccetera. Mi è venuta l'idea di prendere questa penna 3D, come viene chiamata, perché si possono fare tante cose. Chiaramente quello che deve subentrare qui è la fantasia. Se manca la fantasia fate conto che neanche prendela. Questa qui, dopo aver studiato, girato su Amazon, eccetera, eccetera, mi è sembrata la migliore. Nel senso che, vi spiego anche perché, innanzitutto le altre, tante ho visto, hanno le batterie ricaricabili incorporate. Io ho preferito, non preso, qui l'ho già aperta, chiaramente questa è la sua sede, ho preferito questo modello qui perché ha il suo caricatore, vedete, che va con una USB e al suo jack, che poi più o meno è quello che si usava, mi ricordo, nei vecchi telefoni, insomma niente di speciale, con la sua penna. Vi dico l'LCD. Chiaramente non funziona così perché funziona solamente con la presa elettrica. Ho preferito questa perché, casomai, stai facendo un lavoro e ti finisci la batteria e sei fottuto. L'ho acceso prima, vi dico che fa prestissimo arrivare a 150-180 gradi. Poi credo ci sia la possibilità di aumentare attraverso questi pulsanti, più o meno. l'impugnatura è abbastanza semplice. Questo è il pulsante di avanzamento, veloce e leggero. Qui credo sia l'avviamento, scusate, questo deve essere la velocità della, della, ovviamente il spegnimento, e la velocità della plastica che inserirete, che si inserisce, insomma, vicino alla presa elettrica. Questa è nuova, è arrivata, come ripeto, oggi. Questa qui è la sua base, con una ventosina, in modo da dargli la garanzia che stia in piedi. Ecco, adesso qui non attacca perché questo non è in piano. Poi danno, oltre alle istruzioni, chiaramente in cinese e in inglese, danno questi, io penso sia salvadito, perché sicuramente il calore è abbastanza, abbastanza, insomma, 180 gradi. E questo è l'altro tipo, forse per chi ha il ditino più piccolino. Nella scatola c'è anche compreso un pezzo di plastica, che qui, adesso devo lavorare con un manufolo, che questo qui si vede, che serve probabilmente per disegnare qualsiasi cosa. Ho visto fare delle cosine simpatiche, ripeto, la fantasia non deve mancare. Ho visto fare delle cosine simpatiche, del tipo, per esempio, riportare un disegno su carta, metterla sotto quella plastica lì e ricalcare il, ricalcarlo, per poi estrarlo in modo che non si attacca, eccetera. Questa qui costa una quarantina di euro, ce n'è anche da meno. Ripeto, ho preferito questo modello, perché mi è sembrato più, forse, forse, non direi, non oserei dire idoneo, nel senso, migliore, forse robusto, spero di non aver fatto una cattiva scelta, ma secondo le recensioni sembra che sia una delle più gettonate. Niente, un saluto a tutti, e cosa serve? Come ho detto prima, la fantasia. La fantasia, adesso stavo pensando di ricostruire anche un pezzo nel Volvo, che ho perso, cioè ho perso, mi è caduto giù, non lo prendi più in plastica, vediamo se riesco a farlo, chiaramente non verrà mai uguale all'altro, però visto che si può modellare con la carta vetrata, qualcosa si riesce a fare. Ok, un saluto a tutti quanti, come dire, vedete voi, va bene anche per i bambini, per disegnare, fare delle cose simpatiche, poi sono varie recensioni, varie video, ho visto su internet, si possa seguire, i colori non sono malvaggi, 18 tipi, un po' tutti i tipi, un po' così, vedete. Benone, un saluto a tutti quanti ragazzi, la buona giornata, ciao di nuovo.